stiamo trasmettendo live signori buonasera benvenuti a questa diretta fatemi mandare la mail fatemi mandare la mail con il link della diretta diciamo invio benvenuti benvenuti questa sera tema abbastanza scottante in realtà ma aspettiamo qualcuno live aspettiamo che qualcuno si colleghi tanto c'è già qualcuno chi sei palesati intanto io brinda voi questa sera si parla di zoccole ragazzi lo so è un argomento abbastanza spinoso è un argomento che non è abbastanza non è per un cazzo comune ma cerchiamo di affrontarlo con con maturità quindi cerchiamo di attraversare questo questa live senza andare nel volgare con l'eleganza di rito che serve per il mestiere più antico del mondo signori intanto mi sentite mi vedete liscio lindo mi date un colpo un segno un qualsiasi cosa qualcuno scriva scrivete un qualcosa mi sentite intanto abbiamo don omar nel come canzoni di rito mi ricorda molto il mio periodo latinoamericano sì signori io ho avuto un periodo latinoamericano quindi teo ma sei in linea entrato buonasera cristian leggo i tuoi messaggi qua non sei ancora riuscito a capire come scrivere forse dovrò fare un tutorial su sta roba intanto per chi per chi è entrato audio video perfetto buonasera Emanuele grande Emanuele intanto cristian ci saluta dalla chat perché bisogna ancora capire come si utilizzano certi strumenti magari in questa maniera ah ok c'è anche Stefano ragazzi fate prima commentare qua devo stare con 20 robe di ma forse anche no perché così faccio in fretta staccare e essere concentrato su quello che devo dire come stai Emanuele? quanto tempo che non ci vediamo in diretta tanto ragazzi scaldo i motori Damiano buonasera e buona diretta grazie Damiano vediamo se sei online ragazzi cinque minuti di rito per permettere un po' di persone a collegarsi dopodiché cominciamo ad andare ad entrare nella carne del nostro argomento e questa sera di carne si tratta tutto bene sono in fase di grigliato non potevo prendere la diretta cazzo potevi chiamarmi no? io avrei rinunciato volentieri alla diretta questa sera in cambio di una grigliata sarebbe sarebbe stato veramente figo se tu avessi potuto postare le immagini della grigliata che stai che stai facendo signori cinque minuti partiamo questa sera si parla di zoccole visto che è un argomento che ultimamente nei miei live è uscito fuori non per mia volontà ovviamente e si parla di riconquista quindi come questi due aspetti chiamiamoli così possono lavorare in termini produttivi o in termini negativi quando poi si tratta di riconquista ex quindi cercheremo un attimo di addentrarci nel profondo il titolo ovviamente della diretta quindi andare a puttane per riconquistare la propria ex ovviamente è un titolo clickbait come si suol dire quindi che attrae parecchia attenzione è molto più profondo di quanto si possa immaginare sicuramente d'altro canto però è anche un tema che nessuno tocca cioè se noi andiamo a vedere i vari pseudo fuffa cazzi nessuno tocca temi estremamente scottanti come questo è un tema molto importante e per alcuni versi è un tema che ripeto può aiutare delle persone a inquadrarsi meglio è come quando parlavo della masturbazione uguale intanto marketing tool club mi dici il tuo vero norme marketing tool club buonasera sono Luca ottimo Luca benvenuto come stai a proposito hai avuto più novità dal da lei ragazzi due minuti cominciamo due minuti andiamo alla carne della nostra da quale beh giustamente dalla tua ex intanto con un po' di latino c'è stato ragazzi voi non ci crederete ma ho avuto anche il mio periodo latinoamericano ho avuto il mio periodo reggaeton dove ho cominciato a ballucchiare qualcosa in realtà mi hanno molto fissato sulla baciata però parte questo tanto siamo 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 in poche errimi ma sicuramente altre errimi arriveranno vediamo qua su whatsapp madonna ah rega no il video è perfetto ok ci siamo allora no nessuno va bene così ottimo sono contento Luca intanto ragazzi parliamo di zoccole partiamo assolutamente da questo da questo presupposto intanto questo è un argomento molto molto spinoso parto da colmettere le mani avanti minchia Christian ci sei riuscito grande Christian applauso per Christian e brindisi a Christian tanto dicevamo quindi è un argomento abbastanza spinoso quindi parto con tutti i disclaimer della situazione prima di partire però voglio capire come oscurare la chat eccoci qua perché se poi vedo la chat mi distraggo e non riesco a stare sul pezzo quindi ragazzi in questo momento io non sto più vedendo la chat non sto più vedendo i vostri commenti li riprenderò un attimo dopo per la sezione di domande e risposte per l'interazione d'accordo quindi si parla di puttane dicevo voglio mettere le mani avanti chiarendo un punto molto particolare cioè ovviamente non spingo le persone a sfruttare la prostituzione non è mia intenzione spingere le persone verso usare o perlomeno usufruire di un servizio chiamiamolo così e di conseguenza non vorrei essere poi frainteso quindi lo chiarisco adesso e lo chiarisco subito questo non è un video nel quale ti spingo ad andare a zoccole perché in realtà è il messaggio opposto contrario quindi come effettivamente l'andare a zoccole ti vieta in realtà un certo tipo di attitudine che ti serve per riconquistare la tua ex qual è il punto? questo live nasce come al solito da tutte quelle domande che mi vengono fatte in maniera ovviamente privata da tutta una serie di persone con cui entro in contatto nel mio sistema quindi per chi ha letto il sistema per chi ha visto anche solo fosse il primo modulo c'è un pezzo molto stupido in realtà molto breve sono veramente due righe due parole riguardo al fatto che all'interno dei famosi 35 giorni all'interno dei famosi del silenzio stampa bisogna assolutamente uscire con almeno due o tre presenze femminili con cui non esci abitualmente ovviamente questa cosa per chi fa il percorso è intesa come devi allenare e devi sfruttare tra molte virgolette la persona che hai di fronte quindi la ragazza con cui stai uscendo per sviluppare le tue capacità a livello poi comunicativo per metterti in gioco questo serve come allenamento in prima battuta e serve assolutamente anche per andare a creare un circolo virtuoso mi spiego meglio io per riuscire ad avere un'attitudine vincente non basta la sola motivazione perché non basta ma servono anche risultati che confermano il fatto che io sono un gran figo potenzialmente quindi servono dei risultati che costantemente alimentano quello che è la mia autostima quello che è la mia consapevolezza di sé chiamiamola così quindi nel momento in cui io riesco a approcciare una ragazza uscirci quindi riesco ad avere un appuntamento con questa con questa persona riesco a essere una persona tranquilla intrigante riesco a essere giocoso riesco a creare poi dell'attrazione riesco a creare tutta una serie di situazioni nelle quali io non mi ci trovavo da anni ok perché magari c'è gente che oggettivamente stando insieme con la propria ex per dieci anni consecutivi vent'anni conseguent quindici anni quel che sono è ovvio che sei arrugginito è ovvio che sta cosa non ti viene in maniera naturale è normale è assolutamente normale d'altro canto però nel momento in cui magari ti rimetti con tutta la fatica del caso ci mancherebbe altro magari ti rimetti un attimo in sesto magari ricominci a uscire magari ricominci a capire dall'esterno attraverso i feedback che le altre persone ti danno che tu sei una persona di valore in quel caso cominci a vedere le cose in maniera diversa e cominci ad alimentare di nuovo un certo tipo di autostima un certo tipo anche di sicurezza in sé perché no e anche un po' di consapevolezza di quelle che sono le proprie armi di seduzione d'accordo a prescindere dalla questione ex non ex perché se guardiamo il nostro percorso dei 35 giorni perlomeno come un un periodo dove ci riprendiamo emotivamente intendo in quel caso ok c'è la necessità oggettivamente di anche mettersi a confronto con altre persone di conseguenza io non devo uscire per trombare ok cioè andiamo molto al solo ma devo uscire per poter alimentare dentro di me tutta una serie di meccanismi che mi mettono di nuovo nell'attitudine giusta mi mettono nella mentalità dell'abbondanza perché se io attraverso i risultati che mi arrivano dall'esterno riesco a capire riesco a capire che io sono una persona di valore che potenzialmente posso anche ottenere dei risultati indipendentemente dalla mia ex perché ripeto se ci sono stato insieme per tanto tempo tanto poco lo definite voi cioè tu che stai guardando nella tua testa sai se proporzionalmente tanto o poco o alto o basso insomma vedi tu non è questo il punto il punto è che in quella situazione io mi sono annullato perché mi sono concesso esclusivamente a quella persona tutto il periodo della relazione di base mi ha portato a essere un po' una meba ok perché avevo solo il contatto con lei ho fatto qualche live fa non mi ricordo quando dove parlando del fatto che bisogna prepararsi per tempo al fatto che uno verrà lasciato perché non è una questione di se ma è una questione di quando quindi quando il quando arriva bisogna essere assolutamente preparati posto che uno non lo sa a priori quindi lo sai adesso per le prossime relazioni o per la prossima relazione con la tua ex bisogna lavorare in senso interno del termine per riuscire a rimettersi nella giusta mentalità che è la mentalità d'abbondanza bisogna attraverso i risultati che si ottengono nel mondo esterno bisogna entrare verso un focus molto particolare che è quello del io sono una persona attrente riesco a prescindere da chi ho di fronte a creare quella frizzantezza chiamiamola così da quel momento in avanti allora io posso anche cominciare a utilizzare quelle cose per ricostruire utilizziamo questo termine un qualcosa con la mia ex quindi potenzialmente lo si può fare tranquillamente qual è il punto e quindi qua vengo all'argomento non vengo in generale il punto è questo che se io scelgo la scorciatoia quindi Teo mi ha detto che insomma devo ficcare non è così ma mettiamola per ipotesi Teo mi ha detto che devo mettermi in condizioni di ok allora vado a zoccole cioè prendo la scorciatoia ok per arrivare a quello stesso obiettivo magari e capisce che tutto quello che c'è in mezzo non ti viene perché andare a zoccole tirare fuori 50 euro 100 euro 300 euro 5 1000 euro a seconda del target che ti metti su ok o 10 euro a seconda di chi vuoi con chi vuoi approcciarti è chiaro che non alimenta un cazzo tutte le cose che abbiamo detto prima non alimenta la tua mentalità d'abbondanza non alimenta la tua autostima anzi la deperisce perché attraverso questa azione te vai in maniera indiretta a darti dello sfigato perché se tu hai bisogno di pagare una per trombare per renderla molto stretta significa che non sei capace di avere nessun tipo di interazione sociale per sedurre per rimorchiare quindi in maniera totalmente indiretta ti stai dando dello sfigato quindi nel momento in cui te agisci in questa maniera è chiaro che ragazzi non si ottengono risultati perché non è una questione di chiodo schiacciacchiodo quindi ficco il cazzo nella persona allora ho risolto i miei problemi non ci siamo non ci siamo proprio io ho avuto spesso ne parlo con tutto il rispetto possibile immaginabile perché le scelte sono scelte non sono io doverle giudicare ci mancherebbe altro ho avuto spesso a che fare con delle persone che mi hanno confessato guarda te non ho i soldi per entrare a far parte del tuo mondo a cominciare il tuo percorso per intenderci perché ho sputtanato un patrimonio in zoccole e lo dicevano con rammarico perché a distanza di mesi ma mesi veri ok non 35 giorni mesi veri queste persone erano nello stesso loop di prima di quando erano lasciate e paradossalmente soffrivano ancora di più perché non è cioè l'eaculazione tornando al discorso masturbation quindi chi non si è visto la live della masturbazione ragazzi la provate su facebook andatela a vedere perché è una figata quindi rilascia un'endorfina immediata ma in realtà non vai a sistemare un profondo problema interiore dal punto di vista emotivo cazzo non funziona così non funziona per niente così purtroppo noi siamo uomini e a volte tendiamo a semplificare le cose e insomma è un problema anche perché dopo andare a zoccole per l'appunto è come poi alla fine mi immagino l'avere una bambola tanto non c'è sentimento non c'è patos sfregamento e fine della fiera è la stessa cosa della masturbazione di base di conseguenza io allego costantemente comunque il punto massimo del piacere che è l'orgasmo all'immagine mentale della mia ex il che è un cazzo di problema anche questo perché mentalmente si crea una connessione talmente tanto forte talmente tanto indissolubile che è veramente un casino è un casino perché poi dopo io non riesco ad agire più in maniera concreta nel portare a casa dei risultati mi vedo scattoso ragazzi aspetta un attimo ripiglio la chat mi vedete ragazzi mi sono visto un attimo a scatti intanto si è unito a noi Ercole buonasera Ercole è un nome molto impegnativo Ercole Manuel tutto ok perfetto quindi come accennato all'inizio ho ritolto la chat quindi non vedo più un cazzo come accennavo all'inizio il titolo della diretta fa abbastanza ridere insomma è anche abbastanza giocoso ed è assolutamente una provocazione ma nasconde tutta una serie di presupposti molto più profondi perché queste robe che io sto raccontando succedono alla luce del sole o della luna però succedono cioè sono argomenti che difficilmente vengono trattati in questa maniera come li sto trattando io anzi se andiamo a vedere nel campo della riconquista ex tutti quanti dicono che cosa fare nel momento in cui devi scrivere o devi stronzare simili ma quello è il dopo non ci interessa il dopo se ci vogliamo concentrare sul prima ok bisogna costruire una grande costruire una grande mentalità aspetta che giro il telefono perché poi mi distraggo facilmente bisogna costruire una grande mentalità e bisogna costruirla talmente tanto solida che potenzialmente qualsiasi evento esterno venga a interfacciare con il mio stato emotivo c'è questo cioè io metto su una barriera e questa barriera non può essere superata d'accordo ragazzi quindi è molto importante anche mentalizzarsi su queste cose e sulle ripercussioni che i nostri gesti hanno da più punti di vista che magari non riesciamo neanche a vedere ripeto ho conosciuto telefonicamente per carità ho avuto a che fare con persone non è che ho cominciato a vivere ieri e ci mancherebbe altro quindi ancora prima anche di fare questo lavoro ho conosciuto persone che avevano questo hobby e anche nella relazione erano convinti che l'andare a donnine fosse assolutamente il non tradire potenzialmente quindi mi raccomando bisogna mentalizzarsi sul risultato e non c'è scorciatoia cioè chi cerca la scorciatoia ragazzi vi lascio il link di qualcun altro che vi vende un ebook chi cerca la scorciatoia se la trova nell'ebook ok che in realtà non esiste perché è una scorciatoia molto fasulla ed è un'illusione oggettivamente non c'è scorciatoia cioè l'unico modo per ottenere dei risultati concreti in termini di riconquista è mentalizzarsi sul fatto che bisogna sputtare un po' di sangue che si cadrà si soffrirà assolutamente perché soffrire fa parte del nostro corollario di emozioni si soffrirà se ci sentiremo male ci mancherebbe altro d'altro canto però è necessario è necessario ne parlavo oggi non mi ricordo con Giuseppe non so se in diretta o meno noi esseri umani purtroppo infatti ne ridavamo un po' di questa cosa purtroppo impariamo solo attraverso i grandi traumi cioè non c'è stato mai una forte lezione o nell'elezione che ti porti dietro da tanto tempo che non sia stato il risultato di un trauma subito è inutile che ci nascondiamo di fronte a questa cosa riprendo un attimo la chat allora intanto Ercole Dio Bon Lucas Macarone Pizza Macron chi sei Lucas della pizza chi sei tu chi sei tu Lucas ci fai sapere chi minchia sei vuoi un po' di vino Lucas buonasera Joe si sei assolutamente in ritardo anche perché io tra un po' smetto di parlare tu dici che bisogna uscire con nuove ragazze ma se esco o vado via qualche giorno con una ragazza che frequentavo un po' di tempo Manuel me la rigiri meglio la domanda cortesemente me la fai un po' meglio se esci o vai via con una ragazza qualche giorno che frequentavo un po' di tempo fa e in quali termini me la rispieghi un po' meglio sono un po' lento stasera non vi pazienza tanto bagniamo Lucas che allora tanto segnaliamolo contenuti commerciali pornografia materiale ragazzi nel segnalare i messaggi c'è anche pornografia materiale sessualmente esplicito quindi siamo rasentiamo assolutamente il borderline vabbè lasciamo non ciò voglia in questo momento e quindi Gio come stai? raccontaci di te di te di c'è come sta andando? vediamo un po' ragazzi c'è qualche domanda sulla sull'argomento che abbiamo toccato questa sera? meglio una boll meglio una bella una bolla bottiglia di zio Jack che confronto che pagare era una mignotta ed Ercole ha preso in pieno assolutamente ma da sto punto di vista mi trovi totalmente d'accordo cioè è meglio essere in compagnia di un buon vino ad esempio o di zio Jack piuttosto che insomma tra qualche giorno andrò via con una ragazza che conosco da qualche tempo lo faccio perché volevo tappare il buco che ha lasciato la mia ex allora Manuel se questo è il tuo approccio mi spiace dirtelo ma è un approccio un po' di merda conterebbe questa piccola vacanza tra le nuove ragazze in cui parla del tuo programma no mi spiego perché se tu devi uscire con delle ragazze per sviluppare delle abilità in termini comunicativi eccetera tu ti devi anche sentire a disagio ok perché da un punto di vista di prospettiva se sei a tuo agio con l'altra persona che quindi conosci quindi sei nella sfera della conoscenza il l'addestramento che fai chiamiamolo così non è autentico è fasullo quindi nel momento in cui tu non conosci l'altra persona riesci a esporti in maniera diversa perché hai quel timore di se una che conosci il timore di non ce l'hai perché magari si è creata della confidenza eccetera capito quindi bad idea è il fatto anche come mentalità del tappare il buco che ha lasciato la mia ex è la mentalità del cazzo te lo dico molto molto tranquillamente ma più che altro perché non è l'approccio giusto cioè se ficchi il cazzo in una persona non stai risolvendo il problema perché sei tu il problema non è ficcare ragazzi il sesso gli animali trombano noi trombiamo come genere umano e come genere animale dall'epoca dei tempi quando eravamo scimmie sugli alberi trombiamo altrimenti non eravamo qua quindi non è una questione di trombare quindi appunto per la questione delle zoccole tutto il cerchio si chiude quindi Gio raccontami Gio si è perso si è perso per strada Gio intanto andiamo con Whatsapp abbiamo un po' di niente buonasera buonasera Antonio ti stai collegando quando in realtà stiamo finendo non è probabilmente un azoccolo ma giustamente Giotaro85 ci sono anch'io è depresso ma ci sono come mai depresso ma ci sono Giotaro85 ottimo Antonio come stai Antonio a proposito come va la tua fantastica vita quindi Manuel la scorciatoia ripeto è una scorciatoia cioè fino a quando utilizzi una scorciatoia per arrivare prima dal punto A al punto B al punto B è ovvio che una scorciatoia serve ma in questi casi soprattutto quando bisogna poi ottenere dei risultati concreti le scorciatoie cerca di evitarle anzi mettiti nella mentalità che più stai attraversando un periodo difficile e più impari ok dai ti ho scritto stamattina questa situazione mi fa schifo mi sta consumando mi hai scritto stamattina io ho dimenticato allora ok Marco ti ho inquadrato perché io cercavo un qualche Giovanni cercavo un qualche perfetto dai ti ho scritto stamattina questa situazione la mia ragazza è quella ok ho capito Marco apposta 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 purtroppo io ho la memoria perlomeno non ho associato il nick al nome allora diciamo che la situazione è molto mentale tua nel senso che è proprio quello che dicevo all'inizio della diretta che magari tu non c'eri bisogna sviluppare attitudini e sviluppare poi consapevolezza autostima è chiaro che inizialmente devi inquadrarle queste cose attraverso le robe che insomma hai letto dopodiché bisogna anche testarle nel mondo reale e attraverso il test nel mondo reale e i feedback che ti arrivano vai ad alimentare costantemente questa cosa ok quindi diciamo che da sto punto di vista abbiamo abbiamo parecchio lavoro ancora da fare comunque noi ci sentiamo domani Gio ho scritto alla mia ex dopo 20 giorni Alberto buonasera Alberto non ho saputo resistere ma come sai sono ben distaccato e quindi è andato bene bene vediamo ok se alla fine del no contact lei mi dice sei sparito mi sono rifatto una vita addio a qualcuno è successo allora sì è successo non so se è online ma non credo perché di solito saluta quando è online il signor mi viene il nome aspetta 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 Sandro ok a Sandro è successo proprio questo del tipo scordati di me baffanculo eccetera 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 a distanza di mesi comunque piano piano lavorando in maniera costante e coerente essendo una tipo la goccia che scava la roccia per intenderci comunque sta ottenendo dei risultati quindi non so se c'è se ci sarà te lo farà sapere ok se Sandro è online ecco Manuel si ricorda di Sandro ne parlavo la scorsa volta ecco Gio se riesce ad andare a vedere la diretta della settimana scorsa c'è proprio Sandro che poi alla fine sia in chat sia io io dal vivo comunque ne parlavamo di questa cosa perché dopo il suo silenzio stampa dopo il suo no contact come lo vuoi chiamare tu ha avuto quella quella diciamo reazione estremamente violenta di lei ok io mi spaventerei o perlomeno guarderei con molto più diciamo occhio critico una reazione pacifica piuttosto che una violenta cioè nel momento in cui la reazione è violenta è di chiusura è di astio è di metto un muro in realtà è un bene perché paradossalmente lei è ancora estremamente coinvolta è ancora incazzata ci mancherebbe altro ma è ancora coinvolta perché di solito c'è diciamo una mancanza di sincronicità ok tra i due stati perché magari quando tu sei pronto a scrivere lei non lo è e quindi bisogna aspettare che anche lei arrivi a un punto di saturazione tale che possa reagire bene quindi a volte c'è questo problema di essere sincroni e sulla stessa lunghezza d'onda diceva che la sua ex non voleva stare insieme a lui ma voleva andare al mare con lui esatto cioè a oggi siamo in quella situazione che poi Manuel se andiamo a vedere i due linguaggi sono totalmente contrastanti tra di loro cioè non voglio stare assieme a te e andiamo al mare insieme da soli senza che nessuno lo sappia mentre lei comunque si sta frequentando con un altro che a detta sua sono amici ok riusciamo a distinguere poi c'è ragazzi usciamo da sta cazzo di mentalità troglodita da maschi portatori di pisello cioè bisogna uscire da sta situazione da questa mentalità se lei ha detto che è rosso allora è rosso no non è così cioè se lei ha detto rosso perché in quel momento mentalmente dal punto di vista logico dice che è rosso ma se puoi prendere la penna blu e disegna ok significa che è blu d'accordo quindi fare una bella distinzione tra le azioni che fa o che non fa è quello che dice e quello che non dice cioè sono su due piani totalmente diversi noi uomini siamo abituati a essere semplici da questo punto di vista quindi lo sai questo sì lo so vuol dire che lo sai no non lo so vuol dire che non lo sai no e no cioè infine siamo così siamo semplici ma va bene così però dall'altra parte già ho capito divento ricchione se vuoi qualcuno in mailing list io ce l'ho ti invio la mail nel momento in cui bisogna avere a che fare con queste dinamiche bisogna essere in una mentalità talmente tanto aperta e bisogna in maniera razionale andare a fraintendere il messaggio che ci viene spedito sia esso messaggio chat sia esso messaggio dal vivo sia esso lettera gufo a mo' di Harry Potter sia essa magari una frase un post su facebook o stronzate simili bisogna assolutamente essere mentalizzati da più punti di vista c'è un cazzo da fare ok quindi questo Ale sei in diretta? Alessandro? tanto non so se c'è con noi qua oh dai vieni in diretta così ci divertiamo comunque ho degli amici spaziali ragazzi non volevo dirvelo allora vediamo un po' ragazzi c'è qualche domanda sul tema di oggi della ad ogni modo Badu e Tinder valgono come canali per uscire con tre ragazze nuove vanno evitati come una peste di quella brutta allora apriamo anche questa parentesi diciamo che Manuel nel momento in cui tu approcci delle persone a freddo tra virgolette su strada in dei contesti dove non si aspettano di essere approcciate acquisisci un estremo valore ok intanto buonasera Igor che sia unito a noi quindi se tu utilizzi come canale di conoscenza di persone Badu Tinder eccetera 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 in realtà entri in assoluta competizione e lei è abituata alla competizione è abituata a sentirsi estremamente figa d'accordo quindi è abituata a tutta una serie di persone che le van dietro eccetera quindi il tuo sforzo per riuscire a creare diciamo delle opportunità via quei social parte che diventa immane ma vabbè però sono robe frivole capito nel momento in cui tu nel mondo reale approcci una persona una ragazza e riesci a portarti a casa il contatto telefonico riesci a creare un appuntamento eccetera quindi rovesci come faceva mio nonno cazzo ok in quel momento tu riesci ad avere molto più valore percepito perlomeno perché sei quello che se sbatte i coglioni va lì ha molto più coraggio è molto più in gamba allora si si dà da fare d'accordo piuttosto che quello che si nasconde dietro uno schermo per poter approcciare evita a mio avviso poi ovviamente siamo tutti diversi e tutti di vedute diverse soprattutto a mio avviso dovresti evitare quelle che sono poi diciamo le discoteche i locali di un certo tipo ok perché anche lì entri nella mentalità del tinder ma dal vivo perché una ragazza che esce il sabato sera va in discoteca è già mentalmente preparata al fatto che x cristiani la verranno ad approcciare ok x persone x uomini morti di figa la verranno ad approcciare e andranno da lei a romperle i coglioni quindi sono già partono di casa con quella roba in testa mentre se tu sei alla fermata del pullman e approcci una ragazza o sei in coda al supermercato o nell'ortofrutta e approcci una ragazza già lì capisci che esci totalmente in risalto partito siri esci totalmente in risalto ok rispetto a quello che è la concorrenza quindi Manuel bisogna guardare indietro ok bisogna guardare molto indietro bisogna guardare i nostri nonni che andavano lì e piuttosto che chattare su facebook trombavano a differenza nostra ok intanto si unita a noi anche salvatore buonasera salvatore Igor come stai? come va? ragazzi se avete altre domande bene grazie come sei come sei stitico Igor come sei elegante bene grazie è che sto scherzando se avete qualche altra domanda sono qui ci diamo altri cinque minuti e dopodiché stacco e vi auguro buona settimana d'accordo vi do un paio di novità dove cazzo il calendario intanto anche Luigi ci sta seguendo buonasera Luigi oggi è il nove io vi avviso già che in realtà agosto starò fermo quindi ad agosto non ci saranno né live né podcast ok non ci sarà un gazzo di niente perché mentre voi tutti andrete in ferie o chi non va spero stia lavorando per riconquistare la propria ex io registrerò il videocorso l'amo ancora il 3.0 signore quindi mi metterò lì di sana pianta e comincerò a lavorare duro per creare il nuovo sistema quindi chi chi tra qui sono comunque studenti sono gente che ha acquistato il percorso e quindi sta facendo il percorso riceverà tutte le novità a tempo debito ok quindi le manderò a gratis a tutte quelle persone che nel tempo hanno investito nel percorso ma ad agosto segui assolutamente sì non per forza che se è agosto non significa che non seguo la gente anzi anzi ad agosto io non mi fermo mai oggettivamente perché ragazzi una roba per quanto riguarda per quanto riguarda me io sono perennemente in vacanza in realtà io vivo nel mio mondo dove il mio mondo è la mia costante vacanza faccio una cosa che mi strapiace mi pesa mentalmente perché è stancante assolutamente ma anche andare al mare è stancante per farvi capire però faccio qualcosa che mi piace che mi motiva costantemente sono qua dai e giù mattina pomeriggio e sera e le ferie io le vivo tutti i giorni cioè anche semplicemente il fatto che posso organizzarmi le giornate come cacchio gira a me per me il top del top quindi personalmente ripeto quindi mi sento così quindi ad agosto per rispondere a Manuel sì seguirò le persone magari non ne prendo nuovi ma quelli che ho già in carico continuo a seguirli anche perché d'estate col caldo insomma se devo cominciare a fare anche il videocorso è chiaro che diminuisco l'amore di l'amore di persone con cui interagisco perché poi diventa poi un problema Christian neppure io vado in ferie a te e cerco di mantenere qualche contatto fino a settembre e poi si vede cosa succederà assolutamente Christian che bello che riesci a commentare tanto Fabio sono curioso di vedere la puntata su youtube domani Fabio è incuriosito Fabio ti saluto ti saluto e spero tu non sia rimasto deluso da questa puntata il titolo la dice la dice lunga ragazzi diciamo che anche per questa sera abbiamo finito abbiamo toccato un argomento che è abbastanza scottante mi raccomando se pensate che sia il caso di condividere il video con persone o conoscente che stanno attraversando un periodo relazionalmente difficile sentitevi liberi assolutamente di farlo per quanto riguarda noi ci aggiorniamo venerdì con il podcast forse se non questa settimana comunque la prossima c'è un ospite particolare quindi lo accenno già sarà molto molto figo tipo che ha scritto un libro che non ce l'ho qua a disposizione però è in gamba e ci aggiorniamo per il podcast venerdì io intanto vi auguro veramente una una buona settimana ok te ho deciso di ascoltare il tuo consiglio so aspettare ancora un po' perfetto perfetto ottimo ottimo salvatore ho visto che mi hai scritto prima però tra cenare mettere online la diretta eccetera non ho avuto modo di risponderti vi auguro buona settimana signori mi raccomando stay in gamba come direbbe Steve Jobs e ci aggiorniamo presto chiudi